Pande mia, l'ho incontrato, Roberto a me... Pendola Le canzoni hanno questa bella magia Alla fine di non avere un tempo Un tempo ce l'hanno gli arrangiamenti, ce l'hanno i suoni, ce l'hanno le voci Ce l'hanno i volti Però le canzoni rimangono sempre sospese nell'aria E nei momenti come questo In cui stiamo affrontando un periodo di estrema difficoltà Insomma è una canzone che incita in qualche modo alla forza Un messaggio senza tempo, 1992-2021 Vedrai che una via di uscita c'è così, Paolo Vallesi dal palco di Sanremo Basta rimanere giovane per sempre Titolo del nuovo singolo Preludio di ben due album che usciranno quest'anno Per festeggiare il trentennale della sua carriera Un album di inediti e uno di duetti con canzoni che hanno fatto storia E un video Se mi consenti la battuta era Volevo fare un video con Sorrentino No, in realtà Stefano Sorrentino Grandissimo portiere Che spesso e volentieri difende anche la porta della nazionalità Ma cantanti Ha accettato di fare questo video Che ha girato tutto lo stadio Artego Franchi Di Firenze, il mio stadio Non vi dico come va a finire Perché comunque il video ha un finale sorprendente Sorprendente